Buongiorno, oggi siamo stati invitati da Zonta Club, settore Alba, parlava dei diritti delle donne. Io ho parlato di ciò che sta accadendo in Iran riguardo alla lotta delle donne per ottenere i loro diritti che loro, dall'anno scorso, dopo la morta di Massa Amini, l'hanno ammazzato perché non portava bene velo, perciò dopo quella notizia che Polizia Morale l'ha ammazzata quella ragazza con le botte, è successo una serie di proteste e tutte le donne andavano in piazza e bruciavano proprio il velo come un simbolo di protesta. Dopo un anno però un po' le proteste si sono calmate, però alla fine le donne sono riuscite a ottenere quello che volevano, perché oggi le donne iraniane senza paura escono senza velo. La Zonta Club può parlare, può scrivere, può essere voce delle donne, dei giovani, non solo quelli dell'Iran, tutte le donne del tutto mondo, quelli che stanno battendo, questi che stanno lottando per ottenere i dritti.